In questo video vi farò vedere come andare a capo rimanendo all'interno della cella utilizzando Excel OpenOffice, quindi OpenOffice Calc Infatti se io vado a premere invio, come vedete se scrivo qualcosa, ora parlavo di attività fisica e quindi scrivo basket poi quando è finito questo vado a premere invio non mi va a capo all'interno della cella ma mi passa alla cella sottostante se io volessi andare a capo all'interno della cella, quindi clicco due volte e mi entra dentro il testo devo premere il tasto CTRL, che è quello in basso a sinistra, quindi CTRL per intenderci CTRL, tengo premuto CTRL e dopo premo invio come vedete, ora ve lo faccio vedere meglio, scrivo pallacanestro ad esempio e come vedete non mi era andata a capo nella nuova cella ma mi aveva creato, diciamo, era andata a capo rimanendo all'interno della stessa cella e così potrei farlo nuovamente, quindi vado in fondo a pallacanestro premiamo CTRL, dopodiché premiamo invio e ancora una volta mi rimane all'interno della cella quindi per questo video è tutto e alla prossima